Carambola di auto questa mattina lungo la strada statale 115 nel tratto tra Vittoria e Comiso. Cinque persone sono rimaste ferite, due in modo grave. Una di loro, una donna di 77 anni, originale di Chiaramonte Gulfi, ha riportato una frattura al bacino. Per lei è stato necessario il trasporto in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. Fratture gravi anche per il marito, un uomo di 75 anni ricoverato nel reparto di Ortopedia di Vittoria. La figlia, che ha 48 anni e che si trovava alla guida della vettura, guarirà invece in 15 giorni. I tre si trovavano a bordo di una Toyota Yaris che da Vittoria si stava dirigendo verso Comiso. Sulla corsia opposta viaggiavano altre tre vetture, una Renault Clio, un Audi Q5, una Fiat 500. Lo scontro si è verificato tra la Renault e la Yaris e pare che la prima vettura abbia oltrepassato la linea di mezzeria invadendo la corsia opposta, ma la dinamica sarà accertata con esattezza dalla polizia stradale di Vittoria. Le due auto, l'Audio e la Fiat 500, hanno poi tamponato a loro volta la Clio. Nessun ferito tra gli occupanti di queste due vetture condotte rispettivamente da un uomo di Niscemi di 41 anni e da un uomo di San Cataldo di 51 anni. Feriti invece gli occupanti della Clio, una donna di 43 anni di Vittoria che si trovava al volante, ed una di 31. La prima guarirà in 30 giorni, per la seconda solo ferite lievi. Il traffico lungo l'importante arteria è rimasto interrotto per più di due ore e la strada è stata riaperta intorno alle 14.